Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube di Calisthenics Messina. Io sono Frank Mauggeri e oggi andremo a vedere i 5 migliori esercizi per andare a imparare il back lever. Il back lever viene spesso considerato una delle skill più semplici da eseguire. In effetti non è molto complesso, però non è da sottovalutare perché comunque richiede un condizionamento delle articolazioni, soprattutto delle spalle, non indifferente. Quindi prima di andare ad eseguire gli esercizi che vedremo in questo video assicuratevi di avere una buona preparazione di base e soprattutto una buona mobilità delle spalle. Detto questo iniziamo con il primo esercizio che per me è lo skin de calza. Lo skin de calza è sicuramente uno degli esercizi principali da imparare all'inizio quando iniziate ad allenare questa skill, perché vi permette sia di condizionare le spalle a sufficienza prima di mantenere un'isometria, sia di capire bene il movimento che vi permette di rimanere su col col. Andiamo a vedere il secondo esercizio. Come secondo esercizio andremo a provare il tuck back lever, quindi il back lever nella versione più semplice con le ginocchia al back. Andiamo a vedere come si eseggia. Quando andate a eseguire questo esercizio ricordatevi quando finite, anziché di lasciarvi cadere e di mollare subito la presa, cercate piuttosto di rifare il giro per non lasciare di colpo la tensione. Andiamo a vedere il terzo esercizio. Una volta che riuscirete a mantenere la posizione in tuck per abbastanza tempo, diciamo almeno un 20 secondi senza arrivare stremati, potete andare a provare il one leg. Quindi partite da una posizione di tuck, stendete una gamba, mantenete per 3 secondi, tornate in tuck e provate con l'altra gamba. Cercavi di eseguire questo esercizio più a lungo possibile. Cercavi di eseguire un buon numero di ripetizioni dell'esercizio precedente, potete andare a lavorare su one leg in drop, quindi andate in back lever con la gamba verso l'alto e scendete il più piano possibile. tra gli altri esercizi per andare a imparare il back lever potete andare anche ad allenarlo a candela, tenendo le gambe a contatto con la sbarra o nella versione full o se ancora non dovesse riuscirci in straddle o in wall leg. Andiamo a vedere! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! vedo sempre su YouTube alle 15 con un nuovo video. Da Calista Nix Messina è tutto.